Il Movimento a 5 Stelle e 580.000 preferenze in Toscana alle politiche del febbraio scorso punta dritto alle elezioni amministrative presentandosi in nove comuni sui 17 in cui si tornerà a votare il 26 e 27 maggio per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio Comunale. A Firenze presentazione collettiva per sette dei nove candidati alla carica di primo cittadino a riprova dell'unità del Movimento e del contatto diretto delle realtà toscane con gli esponenti in Parlamento. Valeria Antoni nel suo programma per Pisa ha inserito tre priorità. Democrazia perché è sbiadita da anni di monocolore, partecipazione perché le persone non riescono più a dire la loro o più a esprimersi, trasparenza perché tuttora non siamo a conoscenza di quello che è il bilancio consolidato che se andiamo sul sito del comune troviamo una finestra chiusa. Michele Pinassi, candidato a sindaco per Siena, ha invece annunciato una commissione comunale di inchiesta sulla fondazione Monte dei Paschi e non solo. Abbiamo il dovere di rendere una città più semplice per i cittadini soprattutto sul lato burocratico e anche migliorare le tante infrastrutture che purtroppo da oltre dieci anni sono abbandonate a loro stesse. Per massa invece il candidato a sindaco Riccardo Ricciardi vuole lavoro attraverso il rilancio del turismo, la riduzione del rischio frane alluvioni. Terzo, una vera sinergia dentro la macchina comunale per recepire quelli che sono i fondi regionali e i fondi europei che in questo momento servono molto alle casse dei comune. Gli altri candidati sono Maximiliano Bertoni per Biareggio, Niccolò Rigacci per Campi Visenzio, Francesco Bianchi per Impluneta, Alberto Callaioli per Santa Maria Monte, Dania Galeotti per Poggia Caiano e Sara Stiavelli per Ponte Bugianese. Per la campagna elettorale Beppe Grillo sarà il 23 maggio a Siena e probabilmente andrà anche a massa.